Cambio della guardia all'Unione Industriale di Napoli. L'Aggiunta dell'Associazione ha designato come prossimo presidente Ambrogio Prezioso. 62 anni, imprenditore del settore immobiliare e prezioso ha già al suo attivo numerose cariche. È stato in passato vicepresidente dei giovani industriali partenopei e presidente fino al 2008 dell'Associazione Costruttori e Dili di Napoli. Fa parte del comitato di presidenza dell'Aggiunta Esecutiva del Lance. A luglio 2011 è stato eletto vicepresidente dell'INARC e dal 7 marzo 2013 è presidente ANCE con delega al Centro Studi. Secondo la procedura nell'Unione Industriale, Prezioso nelle prossime settimane dovrà presentare il suo programma all'Aggiunta per l'Approvazione. Contestualmente avverrà anche la presentazione della sua squadra. A giugno è prevista l'Assemblea dei Soci che dovrà procedere all'elezione. Secondo la consuetudine dell'Associazione degli Industriali, dopo l'approvazione dell'Aggiunta, l'Assemblea elegge il nuovo presidente per acclamazione. Prezioso prenderà il posto del presidente uscente, Paolo Graziano.